postazione catturate e difendete la postazione quando si muove seguitela stava schifo prima postazione identificata conquistatela la mazza è bella prendere l'obiettivo posizione sicura ora siamo in vantaggio nemico discarica radar personale nemico in volo appuntato qualcuno nemico contegna postazione contegna 10 secondi pronti a muoversi via via alla prossima oh scordio la mia ma va dai che ha sparato 100 colpi non 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 radar personale nemico in volo appuntato qualcuno oppure 10 secondi pronti a muoversi 10 secondi pronti a muoversi vedere la postazione Ok, via la postazione Il nemico ha preso la postazione Posizione sicura Abbiamo un radar personale pronto a fornire Venito, container di carico Postazione persa Postazione contesa Venito Postazione persa Postazione contesa Ci siamo presi la postazione Venuto, venuto Prossima postazione, andiamo Il nemico, container di carico Il nemico ha preso la postazione Postazione contesa Postazione sicura Venito, venuto Siamo a metà di rada, portatevi Radar personale Ha buttato qualcuno Tornare Non口ido Dove spari? Non puoi muoverci Stai a muoverci Ucca Ok, via la postunta Ci siamo presi la postazione. Comunque questo è il mondo. Forza, lì abbiamo il pugno! Questa mamma è bella, bella! Bene, non dobbiamo muoverci! L'albanese che è fuori. Via a casa. Prossima postazione, andiamo! Ci siamo presi la postazione. Il nemico ha preso un postazione. Guavi, il nemico in volo. Non lo so. Proc�iamo. No, siamo presi le poche. Un'altra volta, un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra volta... Abbiamo un raso. Se ne riscontriate di fare. Abbiamo un sacco. No, no, francesi. Bene! andiamo hanno occupato quando ti ammazzano non c'è un'altra cosa vedi, però dobbiamo muoverci a parte unfree ok tutti alla postazione postazione sicura postazione sicura postazione contesa ha occupato la postazione postazione sicura giusto, giusto, vanno a ciò ci vuole oh l'ha ammazzato un bastardo prendi adesso nemico al fesso andiamo umiliati è così che si fa capro il tuo palazzo 0-0-1 0-0-1 0-0-1 ok eh 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 mingga vado tre peggio uccisione mingga vado a f31 uccisioni po' codio 0-0-1